Vagna Mitrano per Chuck, per il film Orlando, con Daniele Vicari, il regista, Michele Placido, il protagonista, e Angelica Katankova, protagonista a bianco di Michele Placido. Allora, la prima domanda per il regista, una storia di affetti, di tenerezza nella società moderna, ma anche una storia di immigrazione al contrario, che ha un sapore anche un po' del cinema passato, del cinema degli anni 70. Ecco, come hai mischiato tutte queste cose insieme e qual è stata soprattutto la tua ispirazione per questa storia? Allora, io ho conosciuto tanti Orlando nella mia vita perché sono cresciuto in un paese di montagna, quindi ho conosciuto delle persone che non sono abituate a parlare troppo, si danno da fare, lavorano, e ho sempre pensato, siccome ho sentito spesso racconti di grandi viaggi da parte di queste persone, mi sono sempre chiesto come reagisce un uomo così andando fuori dall'Italia. E allora abbiamo mandato Orlando a Bruxelles, che è il cuore dell'Europa. Orlando non si è mai posto al problema dell'Europa però, e allora per costruire bene questo suo spaesamento, questo suo passaggio d'epoca, incontra una nipote che non sapeva di avere. E questa nipote è l'Europa in qualche modo, parla tante lingue, vive in un mondo che non è quello di Orlando, e Orlando deve trovare la misura giusta per parlare con lei. Gli affetti sono l'unica cosa che ci lega veramente al mondo, tutto il resto sono cose secondarie. E quindi il racconto del film ruota intorno a queste questioni. Michele, interpreti il ruolo di un nonno, un ruolo che hai abbracciato secondo me con grande intensità e profondità. Come ti sei trovato in questo doppio mondo, cioè in questa doppia realtà? Il tuo personaggio viene da una realtà rurale e appunto come diceva il regista viene catapultato in una società moderna, multiculturale. Io mi considero una persona fortunata perché anch'io sono nato in un paesino colinare che non c'era niente, diciamo, c'era poco. Però poi sono diventato un privilegiato, cioè non ho i problemi di naturalmente di Orlando, certo non è che a questa età, anzi sono lieto di avere un nipotino, ci sono arrivato, è un bel traguardo. E allora bisognava fare un viaggio molto importante, perché questa è la bellezza poi del nostro lavoro, di costruire con il regista un altro personaggio che non sei tu, ma anche il fascino del nostro lavoro. Per cui sposo completamente le parole che ha detto Daniele, è stato spogliarmi di questa mia, di quello che è Michele Placido per vestire anch'io i ricordi della mia infanzia, di quel paese dove sono nato, dei miei nonni emigranti, anche loro da una parte e dall'altra. E credo di aver trovato quell'emozione perché mi sono emozionato e l'emozione è una chiave importantissima per poi percorrere qualcosa che tu hai nascosto per anni, l'hai rimosso ormai pensi che la vita sia... No, non è così. Sempre si ripete il ciclo del mondo, della civiltà. Angelica, il tuo personaggio immagino, ho l'impressione che un po' ti somigli perché è un personaggio che ha una grande conoscenza delle lingue, che vive in una grande città. Ecco, tu come interprete e anche immaginando il tuo personaggio, cosa pensavi del personaggio di Michele Placido, di tuo nonno? Pensando della connessione ci sta qualche tipo, non lo so, io non lo posso proprio capire completamente, però sento qualche tipo di collegamento di generazione che ormai a noi non è molto facile a capire. Ma questo tipo di rapporto fra Liz e Orlando che è una differenza in generazioni, una differenza fra solitudine e una grande socialità dove parlano tante lingue, parlano tanto in generale. Questo rapporto anche di, non lo so, di una persona che scopre se stessa o magari scopre un mondo che non sa ancora, penso che il carattere deve essere anche un po' perso, visto che è proprio un nuovo pianeta, un nuovo mondo. Magari Liz, non lo so, o lo guida o lo fa vedere delle nuove cose. E' bello perché tu mi fai scoprire le cose a me e io faccio scoprire le cose a te. E quella è la straordinarietà di questa favola quasi, questa storia d'amore, ma l'amore come la maiuscola. Daniele, un po' l'hai accennato prima, però ti chiedo in conclusione, poiché si parla molto di Europa Unita in questo momento, si ne parla chiaramente da tantissimi anni, in questo momento sentiamo l'esigenza ancora più forte. In qualche modo questo tuo film si lega anche a questo concetto? Vuole anche mostrare un percorso che stiamo intraprendendo? Beh, Orlando non si è mai posto il problema dell'Europa. Lui ha i suoi polli, suona l'organetto, vive nel suo paese. L'Europa è una parola, è una cosa lontanissima, non l'ha mai misurata. La vita lo porta a fare per la prima volta, da vecchio praticamente, il primo viaggio della sua vita, e precipita proprio nel cuore dell'Europa. Però le nazioni, la politica, sono cose molto lontane da noi, le cose che ci legano veramente alla realtà sono gli affetti. E allora lui, Orlando conosce in qualche modo l'Europa attraverso l'IS. E Orlando è un europeo perfetto, perché siamo tutti in Europa, siamo stranieri rispetto ai nostri vicini, no? Ed è la cosa che non riusciamo ad accettare, di essere un po' stranieri nella nostra terra. E invece in questo momento tutte le persone del mondo sono un po' straniere nella propria terra, sia quando stanno nella propria terra che quando vanno fuori. Da questo punto di vista l'IS racconta il futuro, ma in realtà è anche il segno di un presente che noi non capiamo. Infatti Orlando non la capisce, non capisce che cosa si muove nella sua testa. e paradossalmente è la bambina che guida il nonno alla comprensione di questa cosa qui. Però insieme devono trovarsi, devono capire chi sono insieme. Cioè che è attraverso quindi il volersi bene cercare di capire qual è il loro posto nel mondo. La storia sostanzialmente è questa. che si nelle case quando vedono l'isra stop in questa destra stanza. G Sinne di fronte di capire qual è lafirst fiore,